Giacomo Bartolucci nel stand Noctis, quali sono i nuovi prodotti di quest'anno? Innanzitutto buongiorno e grazie, ma quest'anno qui in fiera presentiamo quattro prodotti nuovi uno dei quali è qui, il letto Stones, che viene dalla mano di un nostro designer che collabora è un letto che sta riscuotendo un successo importante, non so se avrà ricevuto qualche decina di fotografie e poi presentiamo in pedana il letto Zen, sempre un nuovo letto di questa collezione The Originals accompagnato dal letto Angel qua dietro e dall'altra parte abbiamo il letto Link come novità novità non da meno anche il letto Tolò, il letto Tolò che anche lui nasce da un disegno del nostro architetto dove vogliamo rappresentare un po' questo letto particolare che richiama il lettino da mare colorato, vivace colorato, vivace ma soprattutto con questa novità che è il nostro mimo che sta riscuotendo veramente un successo importante Per quanto riguarda la distribuzione? Sì, la distribuzione noi approdiamo quest'anno a Milano dopo veramente aver lavorato sodo in questi ultimi due anni e mezzo e ci siamo diffusi un po' su tutto il territorio nazionale dunque copriamo da nord a sud tutte le regioni con 60 agenti in tutta Italia la distribuzione che abbiamo va a ventaglio con prodotti di design con un prezzo veramente accattivante e un design e una impronta emotiva molto importante Oggi siamo a giovedì, come sta andando il salone? Ma guardate, ieri è stata veramente una giornata importante non pensavamo di riscuotere questo successo anche se come primo anno siamo logisticamente siti in una posizione un po' lontana dal cuore di questa fiera ma ieri veramente siamo stati presi d'assalto e questa mattina hanno aperto le porte alle 8 e mezza e già alle 9 avevamo qui i primi visitatori i primi clienti che ci hanno tempestato di domande e di informazioni quindi mi ritengo contento, ci riteniamo contenti ma personalmente anche molto soddisfatto per il lavoro fatto che stiamo appunto concretizzando